Buongiorno, oggi ce la siamo presi un pochettino più con calma, è il nostro giorno di ritorno, c'è il sole quindi vogliamo assolutamente uscire a fare un giro, però adesso andiamo a fare colazione. Sono le 9.10, siamo usciti adesso dall'albergo per fare ancora un paio d'ore di passeggiata, per fortuna c'è il sole, ci siamo messi gli occhiali da sole, si vede che l'Estonia vuole lasciarci il ricordo del sole e adesso andiamo a fare lo stesso giro di ieri, però penso che faccia tutta un'altra impressione col bel tempo. Direi proprio che con il bel tempo è tutta un'altra cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo comprato qualcosa per il pranzo, per mangiare prima di ripartire, questo è l'hotel da fuori perché non mi ricordo se l'ho fatto vedere nel video di ieri e adesso riprendiamo le valigie, andiamo alla stazione dei Pullman e mangiamo prima di partire perché a luna si prende il bus per Tallin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, noi siamo tornati a Tallinn e avevamo un po' di tempo, allora abbiamo deciso di venire all'aeroporto a piedi, circa due chilometri e mezzo dalla stazione di Pullman. Purtroppo il nostro viaggio finisce qui perché stasera arriveremo a Bergamo e domani torniamo a Torino. Questo viaggio ci è piaciuto davvero tanto tanto, ci è piaciuto anche organizzarlo, anzi posso dire allo stesso modo organizzarlo e farlo e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!